io billoni volevo dirvi che ogni fine settimana ogni sabato mi arrivano nuovi soldi da buttare e se sei povero nel 2021 è una vergogna non se vi faccio vedere come ha soldi come che non capo ogni fine settimana mi arrivano soldi da buttare questi sono tutti i soldi da buttare e clac 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 she make it clac clac rispett carcita capso pilloni allora tanto 5k per i gis nuovi gis non si scordate la cintura cioè i pantaloni piccato sicuramente non è un problema quando sei ricco non c'è cazzo incredibile alla cittura doppia g cazzo io ero uscito senza cintura e stavo pensando come cazzo facevo o la nuova cinta gucci doppia di non sei quando sei ricco non è un problema puoi uscire di casa anche senza cintura grazie per la nuova cinta gucci primo nero ad averli comprare il gucci messo la strada quando sei ricco facciamo e 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